Ciao a tutti ragazzi, io sono Emily e benvenuti in questo nuovo video. In questo momento siamo in aeroporto, precisamente al Malpensa, e siamo in attesa di imbarcarci sull'aereo, direzione Madagascar. Il volo non è per niente corto, anzi diciamo abbastanza lungo. La sua durata è circa di 10 ore, ma ora è il momento di salire. Venite con me! Grazie! Dopo un viaggio lungo e stancante, siamo finalmente arrivati al nostro resort. Si chiama Aldinala Beach, ed è il più famoso a Nozifay. Adesso seguitemi che vi faccio vedere la nostra camera. Questa è la camera di mamma, papà e charlotte. Questa invece è il loro bagno. Questa invece è la camera mia di Daniel. Questa invece è quella di mamma e papà. Questa è il nostro bagno. 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 benfico e nastro. Buona vacanza! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Per caso ti piace il mango? No, perché non si era capito. Buongiorno a tutti, terzo giorno in Madagascar. Finalmente oggi faremo la nostra prima escursione. Abbiamo preso una jeep privata con la guida. Ci porterà in giro per tutta Nasi B. Visiteremo le cose più importanti, ma soprattutto vedremo come vivono le famiglie Madagascar. Veniteci tanto da vedere! Ciao! Ciao a tutti! Ciao maestra! Ciao! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Praticamente siamo bloccati nel traffico da 20 minuti. Oh, forse si parte! Adesso andiamo andiamo, non devi dirlo prima! Buongiorno a tutti! 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 riso bianco, fagioli con la curcuma, un hamburger di zebu zemburger Siamo arrivati nella città e già comunque si vede la differenza di tutto e di più Caraguri 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 ok tutta me 3, 2, 1, vado ciao all'otto 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 deluma buongiorno a tutti quarto giorno in madagascar oggi faremo l'escursione delle tre isole a breve ci imbarcheremo su una barca e faremo questa escursione che durerà per tutto il giorno esploreremo tre isole e in una si potrà fare snorkeling da tutti si parte buongiorno buongiorno luciano no vabbè come mio cognato buongiorno 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 ma c'è il piccolino c'è il piccolo, non l'avevo visto qua c'è il lemur con la manina ciao principessa ciao veluma ciao siamo arrivati da seconda isola adesso abbiamo spiaggio e papà invece va a fare snoramping ciao 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 è tornato papà come va? relax ciao adesso lasciamo la seconda isola e andremo sulla terza dove ci fermeremo a pranzare venite ciao 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 siamo arrivati a Milana Beach mangiare una turchia, il quinto giorno rimane alla scuola, dopo due giorni di scuola, abbiamo deciso di prendersi una pausa, oggi rimaneremo nel villaggio e ci rilasseremo. Andiamo a recuperare i bambini al ristorante del mini club. Ciao a tutti, buon appetito! Allora praticamente i bambini hanno mangiato al mini club, ora tocca a noi. Dove andiamo a mangiare Cele? Andiamo al Pili Pili. Ciao a tutti! Ciao Dani, com'è andato il corso di pizzaiolo? Bene, ho fatto la pizza. Era buona? Sì. Ah è fatta bene. Emily, com'è andato il corso di pizzaiolo? Bene, ho fatto la pizza. Cosa avete fatto? In questa pizza abbiamo schiappeggiata e ho messo il pomodoro, la mozzarella, l'abbiamo messo in torno e l'abbiamo mangiata. E un pezzo non me l'hai portato? No, io se lo volevo dare è il saluto della sabbia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adesso il tuffo me lo fa fare lei e me, ok? 1, 2, 3. Oh ma ti ho detto piano, no? Così in alto. Eccoci in camera. Cosa abbiamo fatto Emily? La doccia. E come ci vestiamo? In bianco. Olè! Buona vedita amore. Oggi sei andato in bianco. Hai mangiato abbastanza? Ti ritieni soddisfatta? Ho mangiato troppo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Cioè Daniel gli ha chiesto di squadra tifa. Buongiorno a tutti, il sesto giorno in Madagascar, in questo momento ci troviamo in barca, siamo in espulsione, dobbiamo visitare Novi e Radia Italia, Madagascar, 2, canale, 5 Da ricordare, grande mamma, non so se si capisce cosa ha fatto, non credo perché non ho ripreso niente, ma siamo arrivati qua in cima al faro che non è funzionante, mi hanno detto, peccato Mamma Allora, praticamente questa è Nozi Ranja, sono due isole, questa e quella lì, sono collegate da questa striscia di sabbia, che non so se si vede bene, che però ancora si deve formare Quindi ancora non possiamo attraversare quella lingua là, dobbiamo solo aspettare che la Maria faccia il suo lavoro e dopodiché ci dirigeremo verso quell'isola lì Allora, tutti Come io ho un figlio che vuol fare sempre gli esperimenti, farà lo scienziato da grande, non lo so, oggi ho detto, papà facciamo un esperimento, mi porti fino alla nostra postazione, cioè, non so se si capisce dov'è, non credo, perché è lontanissimo, nell'acqua, però mi distingi maestro E io sarei contrario a questo, io vorrei capire, ma che esperimento è? Andiamo, dai Pippo, non ci fallo, dove sei? Dove sei? Vuoi il pannellino di Carlo? Tu hai capito perché si forma così la tabbia? Si attaccano le due onde 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 Non era così la faccenda Ciao 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 Spettacolo Sì 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 non ria gia c'ha ailo 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 non so nave non so nave una ni caccia ni caccia non so ma vi tanto sa vale Barbara quanto sei ailo 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 che va a fare ailo 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 nove chilometri passo ahahahahaha vattene da una vezzani Ciao Danie, ho portato un regalino Buongiorno, settimo giorno in Madagascar Oggi, visto che è il penultimo giorno e dobbiamo preparare le valigie per la validenza di domani abbiamo scelto di non fare nessuna escursione quindi rimaneremo del villaggio e ci goderemo questo penultimo giorno Ciao Andiamo là, stiamo andando Noi andiamo Hai l'itromassaggio? Sì Ma tu c'hai un anno, come fai a fare l'itromassaggio? Fai ciao Ciao Belli, ciao Brutti Ciao Ciao a tutti Charlotte Ui, fashion blogger Mi piace? Ok, vai Charlotte Uno, due, tre Brava Charlotte Andiamo a mangiare Ciao a tutti 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 Eccoci! 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 Pronti? Certo che balliamo contatto! E' bellino! E' bellino! E' bellino! E' bellino! E' bellino! Incredibile! Bellissimo! So Ahhh Yeah! Queка! No, Dior! E' bellino! Ohabbina! Oh,book! Ok, propongo. Ottavo e ultimo giorno in Madagascar, cioè il giorno della partita Siamo pronti a lasciare questa splendida isola Questo viaggio ce lo porteremo sempre nel cuore Ciao, al prossimo viaggio! 3, 2, 1, si vola!